Viscia, ghiassate o ferrarelle, l'acqua del sindaco. Siamo su Piazza della Signoria e anche qui mancabilmente si fa la pila per bere l'acqua. L'idea è molto bellina, dobbiamo dire la verità. Non entriamo in merito alla posizione, ma è stata sicuramente messa qui perché praticamente ha sfruttato il fatto che lì c'era un fontanello vicino per cui l'acqua arrivava, già di suo. Nettuno, te che ne pensi? Intervista a Nettuno, quello manda sempre acqua salata.